...una comunicazione per quanto riguarda la testa, ad oggi sicuramente non abbiamo il dato di una tipografia, però posso già dire che la testa in questo anno sarà il positivo. Sostamente dobbiamo fare i tecnici per quanto riguarda le verifiche di tutte le varie fatture e di maniera poter dare un dato, un dato. Penso di poterlo dare, mi sento doveroramente, mi sento di ringraziare tutto il piano che ho lavorato, mi sento su alcune cose che sono state mandate via EPU per quanto riguarda il discorso AA, accettarsi di trasparenza, perché ritengo, perché ritengo, ritengo che tutte le persone che hanno operato all'interno della testa, intanto tutti i volontari, tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità per poter realizzare una testa che credo in maniera dignitosa abbia dato un attimo di lustro al nostro Paese. Ecco, dicevo prima che sicuramente sarà il positivo. Credo che anche da questo punto di vista i cittadini di Nirogara, come qualcuno diceva un attimo fa, ha messo sul Facebook, quindi non avranno da sporsare nessun euro, quindi tanti comunque tutti quelli che hanno proprio. ma nessuno ha detto che, ma scusa una cosa, ma l'etto è posto, io parlo, eh, se parlo poca di se lo so, no, ma parlo di no, perché io parlo di trasparenza, tutto lì, nessuno mette in dubbio chi ha fatto la festa e nessuno contesta niente della festa, dico solo che si parla di trasparenza, diciamo che vogliamo trasparenza, semplice, no? Nessuno dice che tu hai fatto male, o l'associazione ha fatto male, o un pinto ha fatto male, cioè